Qualcuno è stato attirato qui da... energia dalle rovine. Qualcuno se ne è? Ho percepito il richiamo di un'antica oscura energia. Dai! Riposiamo. Anche così è un salvataggio, quindi... Uno straniero, laggiù! Sì! Dobbiamo fermarlo! Ora! Non puoi nascondere le tue debolezze! Eh, cavolo, eh! Già è di codardo! Ho sopportato il giro! Il fatto è che... ... alla fine comunque ti danneggiano un po'... No, grazie, gentile, si è aperta da sola. Eh, salve! Oh, compagno girovago! Vedo che hai incontrato la sorella della notte, ma... ... al contrario degli altri sei vivo. Una spada laser... No, non lo scordo! No, non lo scordo! Questo spiega perché sei vivo. Tu chi sei? Non devi aver paura di me, no? Sono solo un viaggiatore... ... che studia la natura delle... ... culture estinte... ... dei filosofi morti. Eh, come mai salivo tu? Ho studiato molte cose... ... ma sì, anche... ... la sorella della notte... ... era una bambina... ... quando la guerra giunse fin qui. ... le è toccato veder morire la sua famiglia. Che cosa sai di queste rovine? Non puoi immaginare quanto siano antiche. La sorella della notte e la sua stirpe... ... furono sedotte... ... dal potere che si cela lì dentro. Evita le rovine... ... o subisci lo stesso fatto. Atterrati su Dathomir... ... Kaal e BD1... ... hanno incontrato una sorella della notte... ... che ha intimato loro... ... di andarsene subito dal pianeta. Di fronte al loro rifiuto... ... ha ordinato ai fratelli della notte... ... di attaccarli. Poco dopo... ... esse scampati a questa minaccia... ... Kaal e BD1... ... si hanno imbattuti in un viandante... ... che sosteneva di essere uno studioso... ... delle rovine Zeffo... ... ma la sua vera identità... ... e quella della sorella della notte... ... restano ancora un mistero. ... ... di multiple che ovviamente... ... bisogna uscire e rientrare... ... il viandante. ... un misterioso viandante... ... che Kaal ha incontrato su Dathomir... ... e si è presentato... ... come uno studio di civiltà perdute... ... intanto da notare... ... che aveva questo vestito... ... così no... ... tipo la camicia... ... peccato che non ce l'aveva in bottone... ... quindi non si sa come... ... come stava... ... forse c'era la colla... ... dettagli ok... ... si è presentato... ... come uno studio di civiltà perduta... ... affermando di conoscere... ... le sorelle della notte... ... inoltre ha saputo identificare... ... la spada laser di Kaal... ... come un'arma a Jedi. ... come sai della sorella della notte? ... ho osservato... ... ho visto molte cose... ... da quando sono qui... ... che cosa vuol dire? ... deve avere significato... ... troppe grandi menti... ... si sono smarrite in cerca... ... dell'ordine... ... adesso devo andare... ... qui sotto invece c'è qualcosa eh... ... ma scendiamo un attimo... ... ma... ... sarà carino... ... se fosse qualche deviazione... ... significativa ogni tanto ma... ... onestamente... ... non ne abbiamo viste praticamente... ... ops... ... ma si... ... si riesce... ... ok... ... mi... mi... ... cioè mi centrate quantomeno... ... il c'è di sanguine... ... adesso non va bene... ... sta ma... ... è la... ... è la... ... mi curi? ... mi curi? ... ma cavolo... ... cioè io schiaccio e schiaccio... ... no... ... cioè avevano detto che... ... nella recensione... ... leggevo... ... dicono... ... ma ci vuole... ... dobbiamo stare attenti... ... perché ci vuole un attimo... ... prima che... ... che ti curi... ... in effetti... ... però quanto è... ... hm... ... noi eravamo là... ... oh... ... si scenderà... ... in un qualche modo... ... anzi... ... tra l'altro corriamoci due volte eh... ... sembra scalabile... ... ma con l'attrezzatura... ... questa non è un'attrezzatura... ... ah ok... ... ecco come facciamo scendere... ... ... oh... ... ci siamo riusciti... ... con te ci si diverte sempre... ... ah ok... ... hm... ... ah ok... ... è rimasto qualcosa comunque... ... si... ... no... ... io questo qua... ... francamente non so cosa serva... ... cioè non è mai capitato... ... mentre scatta... ... però mentre scatta... ... no no... ... mentre scatta... ... si... ... è utile... ... mentre scatta... ... mi ha dato peso... ... perché... ... dice anche mentre... ... corre sulle pareti... ... ma scorre sulle pareti... ... non c'è... ... mai capitato di essere attaccati... ... in... ... quel frangente... ... al momento scatta... ... si... ... e se dobbiamo avvicinarci... ... in effetti... ... a... ... un po' qua... ... con gli arcieri... ... ... ... la tua strada finisce qui... ... ... batti da parte... ... no... ... lui aveva ragione... ... lui chi? ... cosa? I Jedi sono ladri, egoisti e bugiardi Portano solo morte Indietro, se mi attaccherai ancora non avrò nessuna pietà Io non ti faccio niente Ma le mie sorelle assassinate Avranno la loro vendetta Oh no, ci mancavano i zombie Eh, si è attaccata tutta in due insieme Cavolo Adesso me ne vado Che cosa devono rappresentare queste qua Oh, loro ci penseranno loro Erano più cattivi e più duri I primi due che ci hanno imbagliato contro Che queste qua Cioè se ho alzato la telecamera Invece Dietro di noi Implacabili Capaci di saltare E altamente aggressivi contro i loro nemici Capaci di saltare E notare questa cosa Sanno anche agitare le mani E fare i versi Attacca in ordine Evita di farti circondare Poca Eh Adesso vedremo Se ne incontriamo Cinque o sei insieme Usiamo la spada doppia Poca hanno potuto testimonare Di aver visto una sorella della notte Non morta Ed essere sopravvissuti Se crede che queste guerriere Mumificate Emergono dai bozzoli funebri Degli antichi cimiteri Delle sorelle della notte In certe notti nefaste O sotto il comando Gli incantisi una strega Sono famose per essere ostile A tutte le forme di vita Accetto le sorelle Che le hanno evocate Dopo aver visto la preda Emettono un urlo penetrante Che richiama tutti i non morti vicini Attaccano in sciame deliranti Graffiando e mordendo La carne dei nemici Tipica descrizione Dei zombie Praticamente Vabbè No Ah Per fortuna non lo ha sentito Cioè però esplodono con un colpo No Cioè questo Scuoco verticale Non gli ha fatto un cavolo Devi andartene Devi andartene No che mi hai fatto bruciare chiara dall'acido Di game Mi piacciono questi rami Opportunamente Piazzati Vabbè si apre di là Quindi Ok Equilibrista Mi sembra è interessante Se gli facesse qualcosa E' abbastanza veloci A dargli l'altro colpo Eh perché colpa la nostra Non giusto Cos'era quella roba io? Ma dai Ma no Ma no Non si può vedere Avrebbe tutto a fare il salto Lama Che cavolo vuol dire C'è una parete invisibile Che ti impedisce di Eh dai Ma che stupidata Ti senti castrato Insomma Un po' Il discorso della forza Che non c'è mai Poi Pure queste cavolate qua Ti impedisce di farle Quella sorella della notte Ci sta dietro Utilizzano la forza Ma non ho mai visto Niente di simile Andiamo in punta di piedi Ehi Tu Hai i piedi Sì che ce l'ha Ce l'ha anche riparato Qualcuno sa che creatura volante è quella? Non voglio scoprirlo Eh questa non sembra molto amichevole Non che non sembrava neanche l'altro Però Questo proprio Quanti ragni hai visto oggi? Pronti? Dobbiamo trovare un riparo Ha un pallato di qualcuno Ho anche qua si scende immagino Ma non Obiettivo Un'altra parte Non si ancora accorta che siamo qua Rune dei fratelli della notte Ci stiamo avvicinando al villaggio Il fratello della notte Dipingo il loro gliff Usando un acido Ricavato dalla pianta di Idratis L'acido non resta in superficie Ma corroda e penetra anche le pareti rocciose più dure Lasciando segni permanenti Ma un insiembro deve essere tracciato con attenzione Sia per garantirne la precisione Sia per evitare E danni al suo autore Della precisione dei gliffi Ma che cosa stai a parlare? I maestri calligrafi sono raramente E estremamente apprezzati per il loro talento Beh in effetti sono A cui si può gustare La precisione Dell'ovale Che fa così Ma che cacca Allora sono in tre Non riusciamo a buttarle giù Abbiamo visto E tutti con la mazza Non deve tornare in forze Ehm Non credo che sia Ehm Ehm Quindi se tu fai la verticale Fai la verticale Allora Questo dolore Non significa nulla No Allora Allora Boh Vedremo Oh Mancato Ma taglialo in due Ma vai A farti friggere Ma si può Perché hanno tolto questa cosa? Tra l'altro la posizione è perfetta È un bel taglio in due netto Che fai non è che mi hai preso? Basta Nel frattempo arrivavamo lì Ta 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 I scatti Qualcuno è stato inseguito qui Una riga Dai due Guardate la notte inseguirono qualcuno nella palude Qualcuno che temevano Palude Quale parola Va Tutti i percorsi lineari Però Qua non farebbe male Un Punto di meditazione E si gira Ovviamente No no Ma che cavolo Ma perché mi perdi il target? Ma vai a farti friggere Ah ma qui siamo bassi adesso Vieni 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 Dove? La sopra dai ok faccio niente mi attacchi? oh so che siamo in bassi i fratelli della notte hanno iniziato solo di recente a domesticare i ragni dal dorso velenoso senza antidoti magici delle sorelle della notte questa impresa comporta rischi mortali tuttavia se un ragno catturato in giovane età cresce insieme a un fratello della notte il loro legame diventerà profondo e duraturo adesso proverò anch'io prendere una bella tarantola ad accarezzarla tutta la notte vediamo se diventa la mia miglior amica che capo no 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 cosa che dovrei fare? no 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 ok wow ok giusto in tempo vai e ci rinuncia beh sì perché abbiamo riposato e quindi si è riformato ah possiamo parlare e discutere? vabbè andiamo vabbè andiamo ah c'è l'attacco più fin di vita? per ma dove stai andando? tronzo e l'ha beccato che sono distratto a guardare ma dai non è morto no no perché è morto adesso invece? vabbè l'attacco del nidak e il nidak è un tumuto avversario è quello che scappa eh faceva scappare avversario dei fratelli della notte anche se alcune leggende non hanno anche le sole della notte li tenessero come animali da compagnia ovvio questi tenono anche la mebe come compagnia animali da compagnia nidak sono creature solitarie che raramente si muovono in gruppo in età adulta e il loro unico predatore naturale è la colossale gorgara qualcosa è la che volava? no hmm Tomb Raider sacrifici ad esempio sacrifici ad esempio i fratelli della notte furono gettati in una fossa e uccisi dalle bestie al suo interno indubbiamente per dare un esempio non ma non ci in vuol vediamo credo vediamo 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 Tutto lineare. Il percorso è obbligato. I fratelli della notte vivono qui. Di là, se non abbiamo altra scelta... beh, me l'aspettavo. Non c'è tanto affare, hanno costruito i pianeti tutti in questo modo, con le voragini e i percorsi... Ma lo scudo quello? No, no, un arco. Si scende immagino se... non c'è nessuno. Mi curi? Forse devo capire... Ok, forse... vai, vai! Cioè, io ho premuto se è salto, eh. Eh, adesso me lo dai. Vado sulla luna addirittura. Eh, se mi giri la telecamera... No, no. Vai su! Eh, cosa che rimaneva? Quello del prolungamento della... Onestamente non uso mai, no. C'era una sopra. Combo è ritardata. La spada laser doppia lama. Penso che intendo a dire che non devi premere... Velocemente, ma... Un po' cadenzato, non lo so. Immagino. Alla fine non è una cosa che... Non è che si sono sprecati nemmeno con queste... Con queste abilità. Come siamo scesi da lì? Un'altra possibile via. Ma questo... Vabbè, qui è chiuso il mario. Qui c'è un... C'è un altro passo che io se... Ah, no, forse è qualcosa che io svento, no? L'altra di quelle copie. Ma ha fregato, ha fatto... Bello questo. Cos'è io? Ha tremarella. Dai, arrivasci! Quindi questo qui ha un attacco anche quando muore. Nidak. Dopo venne uccisi i tre. Difendenti dai suoi attacchi aggressivi e irrefrenabili. Però non si può ruotare. Può essere astordito facilmente da ripetute parate. Va che sto a parare a fare se posso... Vabbè. Magari proveremo. Definito dalle leggende il flaggello di Dato Nero. Il Nidak è un predatore agile e incredibilmente letale. Il carnivoro e il suo costante appetito lo porta a cacciare senza sosta, rendendolo una creatura temuta da quasi tutte le altre forme di vita. Le sue potenti zampe vi permettono di sferrare attacchi vigorosi e scattanti, cogliendo le prede di sorpresa. Siamo nel fango, boh. Bum. Ah quello galleggia nel vuoto. Si è spostato. Speranza. Ecco qua sono tanti adesso si. Posso. E' il problema che l'hanno fatto male. C'era qualcosa laggiù. Vabbè. Stavo dicendo bello là. E' sicuramente... Si. E' una texture. Però l'effetto è carino. Va un po' tipo... Un po' infernale.